Chiederemo di fare la spesa, una piccola spesa, un piccolo gesto concreto di solidarietà verso chi in questo momento è in difficoltà vicino a noi. Sabato 26 novembre, in 144 supermercati di Vicenza, si celebra la 26esima giornata nazionale della colletta alimentare e al momento di inforcare il carrello troveremo i volontari, quasi 3.000 alpini coinvolti, che ci guideranno nella piccola donazione. Basta un piccolo gesto, basta una scatola di pelati, una scatola di legumi, un prodotto per l'infanzia, ma ciascuno secondo le proprie disponibilità. Noi siamo convinti che fare un gesto di solidarietà sia un gesto in primis che fa bene a chi lo riceve, ma senza dubbio a chi anche lo fa. In questi ultimi due anni sono aumentate le povertà, sempre di più sono le persone che chiedono aiuto per la spesa e poi c'è il sommerso di chi si vergogna a chiedere. L'anno scorso in Veneto sono state raccolte 7.000 tonnellate di cibo, l'equivalente di 14 milioni di pasti e a Vicenza il Banco Alimentare è collegato allo sportello, non sei più solo. I numeri dicono che attraverso il Banco Alimentare abbiamo già aiutato più di 11.000 persone e lo sportello aiuta a far rete e a raggiungere anche quelli un po' più distanti, anche quelli che magari per dignità non si presentano ma che sappiamo che anche loro hanno bisogno di una mano. Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale, è il monito di Pava Francesco.